È una missione impossibile, ma non c'è nulla per il movimento che sia impossibile veramente. Sarebbe poi possibile, secondo voi, camminare sull'acqua? Io riesco a farlo. Possiamo fare cose straordinarie insieme. Prenderci questa città, magari vedere com'è, entrarci. E la cosa da impossibile diventa fattibile. E lo faremo, lo faremo col vostro aiuto. Queste tre grandi metropoli in una. La metropoli del turismo, la metropoli dell'amministrazione, la metropoli della religione. Noi affronteremo tutto rendendo l'impossibile possibile. Pensate che non abbiamo l'esperienza, non serve l'esperienza. Serva il cuore, serve la volontà. E col cuore e la volontà si possono fare le cose impossibili. Come sto facendo io. Con la mia forza di volontà io mi elevo sull'acqua. Mi elevo sulle acque verso il cielo. Ed è la mia forza di volontà che voglio trasmettervi. Avete una grande occasione. Di cambiare la più grande città del mondo. Potremmo fare un sacco di cose che voi pensate che siano impossibili. Ma il movimento nasce dall'impossibile. Grazie a tutti.